In una settimana dedicata per intero al contrasto ai cambiamenti climatici rischia di passare sotto silenzio la marcia dell'Italia fuori dal tunnel chiamato Covid. Non parliamo di contagi e copertura vaccinale, ma di pill e lavoro. Accanto a un prodotto interno lordo che cresce del 6% e forse di più, c'è un'occupazione che aumenta coinvolgendosi agli uomini che le donne, un tasso di disoccupazione che ripiega fino al 9,2% e uno di inattività che diminuisce fino a raggiungere il 35,7%. Dalle ultime rilevazioni dell'Istat pubblicate il 3 novembre emerge infatti che a settembre rispetto a gennaio si registrano 500.000 occupati in più, un numero che consente di avvicinare il livello di febbraio 2020, il mese precedente, l'inizio della pandemia. Il tasso di occupazione raggiunge il 58,3% ed è inferiore solo di 300.000 unità rispetto a quello che era quando tutto cominciò. Silenziosamente il paese torna a respirare, anche se ancora con la mascherina.